Il nostro progetto nasce dall'idea di creare un modo per rendere molto più visibili gli skater in strada e abbiamo cercato di ideare delle frecce che si illuminassero e che potessero indicare le future azioni di un skater che sono applicate su questa tasca che può essere aggiunta alla maglietta oppure all'ordano le frecce si accendono con dei bottoni che sono situati davanti e il corrispettivo accende la freccia di dietro quindi quello di sinistra, quello di sinistra, quello di destra un modo semplice per girare in sicurezza con gli skater è SkateLikes, questo progetto è composto da una tasca dotata di frecce e pulsanti che si accendono a comando SkateLikes è applicabile su maglietta e zaini facendo uso di strisce di velcro per avere una maggiore sicurezza in strada comprate SkateLikes, la tasca che ti progetto è successo Grazie a tutti.